Ciao, sono Zanzottera Ettore e sto svolgendo il tirocino formativo nel laboratorio di fisiologia vegetale nell'ambito del corso di laurea in biotecnologie molecolari e industriali. Le mie considerazioni riguardo il corso di laurea possono essere riassunte in tre parole. Competenza, il corpo docente infatti è giovane, preparato e attivamente coinvolto nella frontiera della ricerca. Esperienza, infatti molti corsi prevedono dei laboratori volti sia a mostrare le tecniche che a mostrare gli improvement e i limiti. E la lingua, infatti i corsi del secondo anno sono interamente erogati in inglese e questo per quanto possa spaventare costituisce un tassello fondamentale di una preparazione scientifica. Inoltre i professori sono assolutamente disponibili a ripetere e a chiarire i concetti. Per quanto invece riguarda il laboratorio che sto frequentando e quindi il tirocino che sto svolgendo nel gruppo ho trovato grande competenza, preparazione e anche un ambiente stimolante sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista umano.